Nuova spinta verso la condivisione delle informazioni tra l'amministrazione finanziaria e l'autorità giudiziaria per un fisco e una giustizia sempre più coordinati tra loro, grazie al protocollo investigativo siglato nella sede della direzione provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate. L'intesa è stata sottoscritta dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Giancarlo Sulcenti, dal procuratore della Repubblica facente funzione presso il Tribunale di Oristano, Armando Mammone, e dalla direttrice provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Oristano, Maria Rosaria Molfetta. L'accordo, che recepisce le disposizioni sulla semplificazione tributaria e sul potenziamento delle procedure di accertamento, prevede l'attivazione di un semplificato e riservato sistema di comunicazione istituzionale fra Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La prima fornisce informazioni sullo stato dei procedimenti penali originati da denunce presentate all'autorità giudiziaria, mentre le seconde aggiornano quest'ultima sui procedimenti amministrativi che presentano profili di rilevanza penale. L'intesa punta a migliorare l'efficacia complessiva, la tempestività dell'azione di contrasto all'evasione fiscale per i reati tributari in materia di IVA, di imposte sui redditi e sui proventi derivanti da attività penalmente illecite. Lo scambio di notizie e di documenti di reciproco interesse è assicurato da una rete di referenti. Quelli designati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza mettono a disposizione della Procura della Repubblica, nei casi più complessi, le specialistiche, conoscenze tecniche tributaristiche. Per la trasmissione delle informazioni la Procura si serve di sistemi telematici per le comunicazioni formali, mentre l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono le notizie di reato avvalendosi del portale Notizie di Reato, che garantisce il pieno rispetto dei principi sanciti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Negli ambienti vicini al Presidente dell'Aggiunta la parola d'ordine è quella di serrare le fila e di riconquistare lo spazio politico ed elettorale perso nelle recenti elezioni politiche, il cui il risultato ha penalizzato in via principale non solo la Lega ma soprattutto il partito del Presidente. Nei risultati del voto nell'isola, quattro Mori e Lega mettono insieme uno scarso 7%, un crollo che in molti centri dell'isola diventa abissale, quindi un'azione di recupero, pensando alle elezioni regionali del 2024, imprimendo una sterzata ad iniziare dalla Giunta regionale. Di conseguenza Solinas ha annunciato una verifica a tutto campo, che stando alle dichiarazioni rilasciate sarà avviata ritirando le deleghe a tutti gli assessori in carica. Questo potrebbe significare un profondo rimescolamento di carte e dei ruoli all'interno del sistema regione, dove sono da rinnovare o completare anche le nomine in diversi enti. Il lavoro di questi anni sul territorio ha portato i suoi frutti. Non avevamo dubbi sul fatto che i cittadini della provincia di Oristano, come tutti i sardi, avrebbero continuato a darci fiducia, perché abbiamo dimostrato di esserne degni di lavorare al fianco dei cittadini e degli amministratori locali, con uno spirito collaborativo, costante e guidato da un unico obiettivo, la crescita della nostra provincia e delle nostre comunità. Il Movimento 5 Stelle, osserve il consigliere regionale Alessandro Solinas, è il secondo partito in Sardegna e il secondo partito del Collegio di Nuoro Oristano. In provincia si registra un ottimo dato pressoché costante in quasi tutti i comuni. Complessivamente abbiamo ottenuto oltre 12 mila voti. A questo dato corrispondono numerosissime persone che hanno continuato a darci fiducia e premiato il nostro lavoro. Nel ringraziare tutti coloro che ci hanno scelto, valorizzando il progetto inclusivo e progressista del Movimento 5 Stelle, invitiamo le persone a partecipare in misura ancora maggiore alle nostre attività e a sfruttare al meglio gli strumenti che il Movimento 5 Stelle mette a loro disposizione per contribuire a rafforzare la nostra realtà. Siamo presenti costantemente sul territorio, conclude Alessandro Solinas, e invitiamo chiunque voglia partecipare a contattarci e confrontarsi con noi, a renderci partecipi delle proprie idee e a sottoporci le problematiche delle proprie comunità affinché assieme possano essere risolte. Altri 20 giorni di esercitazioni nel poligono militare di Capofrasca, a ridosso della Valle da Pesca di Marcedì e della Borgata di Sant'Antonio di Sant'Adi. Le esercitazioni avranno inizio lunedì 3 ottobre per concludersi venerdì dello stesso mese. Si chiamerà Nuova Tango 812, prevede le consuete limitazioni nella sottostante Valle da Pesca dove è fatta eccezione per il sabato e la domenica a partire dalle 7.30 sino alle 17.30 ad eccezione del 4, 8, 10 e 11 ottobre quando le limitazioni saranno in vigore anche in notturna sino alle 22.00. Nell'area sono vietati sosta e navigazione, pesca e attività relative, turismo nautico, balneazione e tutte le altre attività connesse con l'uso pubblico del mare. Poste italiane in linea con la campagna Cyber Security Month, istituita dall'Unione Europea per promuovere e sensibilizzare durante l'intero mese di ottobre aziende e cittadini sull'importanza della sicurezza informatica, coglie l'occasione per offrire anche ai cittadini della provincia di Uristano una serie di suggerimenti e consigli utili per non cadere vittime delle truffe online. Collegandosi al sito www.poste.it infatti si può accedere alla sezione dedicata alla sicurezza dove sono disponibili una serie di video che spiegano come avvengano le principali tipologie di truffe online, sulle app e sui canali social e analizzando occasioni più pratiche come quando si finalizza un acquisto e-commerce o nei casi in cui si compiono operazioni di pagamento. La prima regola per evitare di cadere nella rete di malintenzionati è quella di difidare sempre di richieste più o meno urgenti, di dati personali e ovviamente di non comunicarli in nessuna modalità e per nessun motivo. Altra indicazione fondamentale è che poste italiane SPA o poste pay SPA non richiedono mai di fornire dati riservati come il nome utente, le password, i codici di sicurezza per eseguire una transazione come ad esempio il codice OTP cioè one time password ricevuto via sms. In nessuna modalità email, sms, chat di social network, operatori di call center e per nessuna finalità. Se qualcuno anche presentandosi come un operatore di poste italiane SPA o poste pay SPA dovesse chiedere tali informazioni si tratta certamente di un tentativo di frode. Più in generale per evitare il rischio di essere colpiti da episodi di truffe online occorre mettere in pratica alcuni semplici accorgimenti tra i quali non rispondere mai a mail, sms, chiamati o chat da call center in cui ti vengono chiesti i tuoi codici personali, controllare sempre l'attendibilità di una mail prima di aprirla, verificare che il mittente sia realmente chi dice di essere e non qualcuno che si finge qualcun altro, non scaricare gli allegati delle mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale. Le informazioni messe a disposizione da poste italiane hanno l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza e contribuire alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità in linea con il tradizionale ruolo sociale di poste italiane e con i valori di inclusione e vicinanza ai cittadini della provincia di Uristano che da sempre ne ispirano l'azione. All'ospedale San Martino di Uristano per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento d'eccezione dall'equip della struttura complessa di cardiologia. Un paziente affetto da una malattia rara, la distrofia muscolare di Becker, è stato sottoposto all'impianto di un dispositivo per la modulazione e la contrattilità cardiaca. Si tratta del primo caso in Italia in cui questo tipo di intervento viene effettuato su un paziente che soffre di una patologia rara, spiega il direttore dell'unità operativa di cardiologia Francesco Dettori. La distrofia muscolare di Becker è una malattia genetica legata al cromosoma X che colpisce circa tre uomini ogni 100.000 abitanti e che ha tra le conseguenze la cardiomiopatia dilatativa ed il conseguente scompenso cardiaco. La sua caratteristica è quella di essere refrattario alle comuni terapie e in questi pazienti è quasi sempre impossibile anche il trapianto cardiaco. Ciò comporta una elevata mortalità in età giovanile. L'impianto di questo innovativo dispositivo tramite una particolare stimolazione cardiaca migliora il funzionamento del cuore e rallenta la progressione della patologia. L'intervento, reso particolarmente complesso dalle condizioni del paziente, è stato eseguito dal team di aritmologia e cardiostimolazione dell'unità operativa di cardiologia, diretto dal dottor Francesco Dettori e coadiuvato dal resto dell'equipo, i medici Gian Paolo Sanna e Sara Frascaro e le infermiere Caterina Angioi e Francesca Faedda. Abbiamo sperimentato in maniera pionieristica l'utilizzo di tecnologie avanzate per indicazioni non usuali, afferma il direttore del reparto di cardiologia. Il paziente che ha superato brillantemente l'intervento è stato preso in carico dall'ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco e dal laboratorio di ecocardiografia di secondo livello, che operano presso la stessa struttura grazie ai medici Marina Meloni, Simona Ramu, Laura Sanna, Franca Liggi, Stefania Palmas e Giuseppina Giau. Adesso l'augurio di tutti, dice il dottor Dettori, è che il paziente possa riprendere una vita serena. La storia civile, si sa, è intrecciata con la storia religiosa. Quest'ultima ha determinato quasi sempre le vicende umane nel bene e nel male. Caterina Bittichesu, instancabile archeologa e ricercatrice che ha già prodotto lavori che riguardano la storia e l'archeologia del margine, è autrice questa volta di un libro sulla storia delle confraternite e i riti della settimana santa. Nella prima parte del testo un escursus storico dove si intrecciano la storia della Sardegna con la storia religiosa. Nella seconda parte affronta invece la storia delle confraternite, con particolare riferimento a quelle di Macomere, la prima delle quali quella di Santa Croce risale alla prima metà del Cinquecento, a seguito del concilio di Trento e del fermento causato dalla controriforma. Il volume è stato presentato ad un pubblico attentissimo presso l'aula consigliare di Macomere a sottolineare la valenza che riveste per la città. A presentarlo è stato per primo lo stesso sindaco Antonio Sucu che ha sottolineato l'importanza del lavoro per la storia di Macomere, complimentandosi anche per l'eleganza dell'edizione in carta patinata che è avvenuta a spese dell'autrice. Il parroco Don Andrea Rossi ha sottolineato il ruolo delle confraternite che si manifesta in tre direzioni, la trasmissione della tradizione, intesa come la parola del Vangelo, e la trasmissione delle tradizioni, che non vuol dire immobilismo perché vivere è cambiare e quindi la continuità consiste nel conciliare le cose antiche con le cose nuove secondo il linguaggio dei tempi, secondo il rito. Parole di apprezzamento e di emozione sono state espresse per il lavoro di ricerca rigorosa di Caterina Bittichesu, dall'assessore alla cultura di Macomere Gianfranco Congio e da PILAS per l'associazione solene di cui Caterina Bittichesu fa parte. Il libro è corredato da una serie di documenti, canti e fotografie che illustrano i momenti più suggestivi dell'attività delle confraternite di Macomere, di Santa Croce, con le raccomandate, e del rosario tra le prime. Nella terza parte si documentano i momenti più salienti della settimana santa. I tecnici di Abanoa hanno individuato una rottura dell'acquedotto in località Solapemu, in territorio di Uras. L'intervento di riparazione è in corso e sono in corso le manovre per limitare i disservizi. L'erogazione all'utenza nel centro abitato di Uras è garantita mentre sono previsti cali di pressione e temporane interruzioni nella zona Ersat e nei comuni di Marrubio e Terralba, comprese le frazioni di Tanca Marchesa e Marcedì. Il servizio riprenderà a pieno regime a lavori conclusi con il riavvio dell'acquedotto nel pomeriggio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione Guasti di Abanoa tramite il numero verde 800-02-040, attivo 24 ore su 24. L'associazione Montiferru ha aderito alla campagna nazionale di riqualificazione ambientale Puliamo il mondo, promossa da Lega Ambiente, e che sabato 1 ottobre alle 9 nell'area dell'ex seminario Pontificio di Cuglieri vedrà impegnati nelle attività di bonifica i giovani studenti del plesso scolastico locale, scuola primaria e medie, gli agenti del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale in collaborazione con i volontari dell'associazione e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Questi ultimi due soggetti si faranno inoltre carico della raccolta degli pneumatici fuori uso presenti nel sito. L'appuntamento, che vedrà intervenire anche i vertici regionali di Lega Ambiente, è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di Cuglieri e dell'intero Montiferru che hanno a cuore l'ambiente e la tutela del territorio. A Neoneli ritorna Wine, Fregula e Cassola, l'appuntamento enogastronomico autunnale promosso dal Comune con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre il Paese del Barigado ospita incontri sulla cultura vitivinicola e sulle ricchezze enogastronomiche locali, iniziative e laboratori su antiche pratiche del territorio legate a cibo e vino, con l'immancabile cornice di degustazioni, esposizioni di prodotti artigianali e agroalimentari e musica nelle piazze e nelle strade del Paese. Momento emblematico di ogni edizione è la gara di cucina tra chef dedicata alla Fregula, la caratteristica pasta di semola di granul duro della cucina sarda e il pranzo a base di piatti tipici neonelesi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!